Io mi accudo ai ringraziamenti agli organizzatori per l'invito e per l'accoglienza veramente stupenda e anche per l'occasione per me è un po' ritornare a un convegno dopo, forse è capitato anche a qualcuno di voi, dopo tanto tempo causa quello che abbiamo vissuto nel 2020 e 2021, insomma, quindi doppiamente felice. E parlo di un progetto che mi vede coinvolto come conservatore del Museo di Antropologia, un museo in trasformazione e vi dirò come si andrà trasformando nell'immediato futuro. Quindi parlo appunto di questa mummia e sarcofago che è conservata al Museo di Antropologia di Padua e arriva a Padua nel 1835, dono di questo Giuseppe Acerbi, console che era stato console d'Auto in Egitto, arriva con un nuovo incarico a Venezia e dona all'Università di Padua questa mummia con sarcofago. L'anno successivo, nel 1936, Tommaso Cattullo, che è uno dei professori universitari dell'Università di Padua, fa una relazione di questi doni e fa riferimento a questa mummia. Mummia sfasciata, in teca di legno, con coperchio, con un'escrizione geroglifica e la mummia, dice, è ben conservata, rinvenuta in una tomba della necropia di Tebe, 4.000 anni di età. Vedremo che questi dati andremo subito a confutarli in un qualche modo. Parlo brevemente del sarcofago ma poi andrò diretto sul focus che è la mummia, perché appunto, come avete visto già da questa relazione storica, per molto tempo mummia e sarcofago sono state pensate come un unicum e adesso invece ci stiamo ponendo seri dubbi. Comunque, appunto, nel 2021, quindi l'anno scorso, è iniziata una campagna di restauro, anche qui la citata Nicola Restauri, e indagini non invasive o minimamente invasive. Abbiamo rivisto l'identificazione della specie legnosa, cipresso, mentre fino al 2020 si pensava fosse sicomoro, è stata fatta un'analisi a radiocarbonio, vedete il periodo 407-348 before Christ, e grazie al lavoro di Susanna Moser abbiamo anche un'informazione in più su chi era il proprietario di questo sarcofago. Era un sacerdote uomo, un sacerdote puro, il cui nome era Ba anche, e provenienza Eliopoli. Quindi vedete che i dati storici riportati da Catullo saltano tutti, non c'entra niente Tebe, apparentemente perché magari appunto l'acquisto, l'acquisizione avvenne a Tebe, ma il sarcofago appunto ha una provenienza e anche una datazione completamente diversa. Così pure anche la mummia, diciamo la mummia è non bendata, quasi completamente non bendata, perché troviamo dei residui di fasce che la avvolgevano, un'altezza di 1,60 m, l'adattazione, vedete, collima bene con l'adattazione del sarcofago, si sovrappone benissimo. Abbiamo effettuato nel passato, nell'82, soprattutto nel 2012, e lì farò riferimento con il proseguo della mia presentazione, una tomografia assiale che ci ha dato moltissime informazioni. A seguito del restauro, terminato da poco, altre analisi non invasive sono state effettuate, tra cui anche appunto lo studio sulle fibre che hanno confermato che fossero di lino. E comunque proprio a seguito di questo lavoro dalla Nicola Restauri è emerso il dubbio che sarcofago e mummia fossero, come dire, legati, come fino a quel momento si pensava. Non andrò a fondo su questa cosa, diciamo che ci sono dei pro e dei contro e il punto di domanda che metto alla fine rimane aperto. Vedete che l'adattazione a radiocarbonio è perfetta, sembra fatta apposta, diciamo che è qualcosa di volumetrico, quello è il dubbio essenziale che ci disturba in un qualche modo in questa associazione. La mummia, come dicevo, è sbendata, ma immaginando la bendata, i volumi di questa mummia virtualmente bendata dentro il sarcofago calzerebbero quasi come un guanto un po' stretti. Quindi abbiamo dei dubbi, queste sono le ipotesi di lavoro su cui andiamo avanti. Quindi dal 2021 in poi abbiamo chiamato il sarcofago di Ba'Anch e la mummia, quindi come se fossero due oggetti separati e anche nell'esposizione li terremo separati. Vado a fondo sullo studio della mummia, che mi ha visto anche più coinvolto, quindi mi sento anche più padrone di quello che vado a dire. Nel 2012 abbiamo fatto questa analisi di attacca all'Istituto di Radiologia dell'ospedale dell'Università di Padova. Vedete alcuni dati tecnici, insomma sono 6.820 immagini, era una buona macchina all'epoca, adesso sicuramente ce ne sono di qualità più alta, ma dato il numero notevole di immagini abbiamo dovuto necessariamente dividere cranio e post cranio perché appunto il numero di immagini era notevolissimo e poi appunto con i software a disposizione abbiamo virtualmente unito queste due tacche separate e abbiamo lavorato con l'individuo intero. E abbiamo avuto dei riscontri veramente interessanti nello studio. Allora, io sono antropologo come formazione, quindi diciamo abitualmente lavoro con le ossa e lavorare con un'attacca è stata una cosa nuova, però di fatto le ossa venivano catturate dall'attacca e quindi io ho usato gli stessi metodi che uso sullo scavo per la determinazione del sesso e dell'età. L'esesso ovviamente si capiva anche senza la determinazione antropologica, l'età invece guardando proprio punti, aree classiche che si conservano nell'antropologia abbiamo determinato appunto un'età di 35 anni. E abbiamo anche approfondito eventuali patologie di cui questa persona soffriva e anche qui l'attacca è meravigliosa perché dà delle opportunità quasi appunto come avessimo l'ossa tra le mani. Abbiamo ad esempio indagato l'area attorno, diciamo il soffitto dell'orbita e abbiamo osservato queste porosità che si chiamano cribra orbitaria tecnicamente vi dirò fra poco a che cosa sono associate perché un'altra cosa che abbiamo osservato e di solito queste due segni vanno in tandem l'ipoplasia dello smalto che sono delle interruzioni sul dente della posizione dello smalto. Come se fosse stata una crisi sostanzialmente, il dente cresce normalmente ma lo smalto si ferma e sono di solito legati a episodi di malnutrizione soprattutto nell'infanzia e anche soprattutto l'ecriba orbitaria a fenomeni di anemia, quindi una sottoalimentazione probabilmente di questa persona nell'età giovanile e infantile. Un'altra ipotesi di lavoro, questa la metto con il punto di domanda perché in questo momento è una suggestione non ancora approfondita, è che questa persona soffrisse anche di tetano. Sono presenti tutti i denti tranne i primi molari della mandibola, tutti i due i lati. Ovviamente può succedere che si perdano simmetricamente i due denti però è un evento un po' particolare e quindi proprio con un confronto etnografico il radiologo ci diceva che aveva documentato che in alcune situazioni, in popolazioni che non accedono agli ospedali, alla sanità pubblica, insomma in paesi in via di sviluppo, quando appunto una persona soffriva di tetano ovviamente nel momento della contrazione dello spasmo si serrava la mandibola e se questo spasmo durava per ore c'erano problemi di alimentazione e di idratazione. Quindi quando una persona si sapeva soffriva di questa situazione appunto venivano tolti i molari, solitamente i primi e i secondi, per permettere l'introduzione di una cannuccia per continuare in qualche modo a idratarlo mentre c'era questo spasmo. Però, ripeto, questa è una suggestione che non abbiamo approfondito. Evidenze artrosiche, queste sono insomma normali, niente di straordinario. Anche la situazione dentaria non è stata sconvolgente, i denti sono usurati, ma è tipico dell'epoca, insomma come pure la riduzione del tessuto osseo della mandibola e della mascella, che si sono ritirati nel riassorbimento dell'alveolo, cosa particolare appunto non ci sono semi di carie e anche il tartaro è scarso. Abbiamo una situazione, diciamo, se andasse dal dentista oggi questo signore verrebbe giudicato con un isegno orale veramente mediocre, ma per l'epoca non era niente di straordinario e questa usura, anche qui la usura dei denti, anche qui quel punto di domanda, potrebbe essere legata anche a una masticazione o all'uso degli denti per lavorare, masticare qualcosa, qualche strumento, non si sa, perché ha un consumo molto particolare. L'attacca ci ha permesso anche di andare a fondo anche su, comprendere come questa mummi sia stata preparata, vedete che il cervello è assente e questo ce lo si aspettava, insomma tutto sommato, l'ingresso per l'asportazione del cervello è venuta, come si sa, un po' anche dalle fonti, attraverso il naso, hanno sfondato l'etmoide di destra, sono conservati gli occhi, si vedono benissimo i nervi ottici e troviamo questo residuo, questa sostanza radiopaca, probabilmente è una resina, vedete posta dorsalmente, quindi un primo segno che l'imbalsamazione, la preparazione di questo individuo è stata fatta su pino, che non è una cosa scontata, per quello che vedremo fra un attimo. Troviamo il cuore, perché troviamo proprio benissimo anche il sacco pericardico, quindi non è stato rimosso, come non sono stati rimossi tutti gli organi del torace, troviamo i polmoni con le pleure, solo che tutti gli organi del torace sono collassati verso il basso, dovrebbero essere qui in alto, sono scesi in basso, segno che per molto tempo questa mummia è stata tenuta in piedi, quindi per gravità sostanzialmente, quindi la preparazione è stata fatta su pina ma poi in altri momenti, non si sa se nell'antichità o in tempi più recenti, è stata tenuta in piedi e quindi per gravità, essendoci il vuoto dato dalla rimozione degli organi addominali, i polmoni e il cuore sono collassati verso il basso. Il diaframma è integro, quindi la membrana che separa gli organi toracici dagli organi addominali, c'è tutta e troviamo solo un residuo sotto il diaframma, però lo troviamo praticamente a livello delle pelvi di qualche organo addominale e troviamo questo anello metallico, si vede meglio da questa prospettiva con questo contrasto, è un oggetto metallico di un anello, sostanzialmente di un centimetro più o meno di diametro che probabilmente era legato alle operazioni di eviscerazione addominale, che troviamo una ferita di circa 3 cm vicino alla zona del pube, da dove probabilmente sono entrati, introducendo uno strumento, forse quella parte metallica è l'ugello di questo strumento, non lo sappiamo, la presenza è un po', la pensiamo legata a questa pratica e troviamo di nuovo nella parte bassa, quindi segno ancora di una imbalsamazione supina, dei residui di resina che sono scesi verso il dorso. Ferita mortale, perché appunto la sorpresa più clamorosa per noi è stata scoprire anche le cause di morte, realmente un cold case di duemila anni fa, perché abbiamo visto la clavicola con una frattura molto particolare, non è una frattura che i radiologi trovano spesso, perché è una frattura scomposta, vedete che si staccano tre frammenti abbastanza importanti, non è la classica frattura che si ha quando si cade e si mettono le mani a terra per cercare di fermare l'impatto, ha dinamiche diverse, che siamo andati ad approfondire. Sempre guardando in sezione trasversale, a livello della zona che coinvolge questa frattura, troviamo un addensamento di lino, che non troviamo un impacco di lino più spesso rispetto all'altro lato, quindi come avessero tamponato questa ferita. E troviamo una ferita, c'è un'entrata, un angolo appunto di circa 20 gradi dal basso verso l'alto, una ferita che arriva nella cavità toracica. Troviamo, ed è un altro segno che la preparazione di questa mummia è stata, l'imbalsamazione è avvenuta su Pina, questa fascia radio opaca, che è stata interpretata dai radiologi come il residuo di un emotorace, quindi un versamento di sangue nel torace che si è accumulato dorsalmente. E altra sorpresa, una frattura dell'omero sinistro, anche questa è una frattura strana, una frattura per torsione, quindi non è la classica frattura che si osserva, ripeto, con le cadute, quindi un trauma particolare. Inizialmente la prima ipotesi di lavoro è stata che una frattura che sul braccio non si vedono segni, non ci sono ferite, quindi una frattura potrebbe essere peribortale, quindi pochi momenti prima della morte o post mortem. Inizialmente noi ci siamo focalizzati sull'idea del post mortem, abbiamo immaginato che durante le operazioni di sbendaggio hanno torto il braccio per facilitare le operazioni, però abbiamo avuto in quell'occasione la possibilità, è stata un ulteriore arricchimento, di lavorare anche con la polizia scientifica, perché capivamo che c'era qualcosa di non normale, insomma era un po' straordinario quello che stavamo vedendo, che ci hanno proposto invece un meccanismo che spiegava questi due eventi, probabilmente i peri mortali, fatali anche. Quindi la ferita che ha distrutto, frammentato la clavicola è dovuta a un'arma da punta e taglio che è entrata dal basso del torace, ha trafitto la clavicola ed è passata nel torace. E cosa succede? Ovviamente perforando la clavicola e andando oltre si trovano importanti vagi sanguigni e la presenza di questo residuo di emotorace fa pensare a un dissanguamento, il notevole spessore del bendaggio ulteriormente. Quindi questa persona è molto probabilmente morta, anzi sicuramente morta di morte violenta per dissanguamento. E appunto è qui l'intuizione che ci ha dato la polizia scientifica, perché appunto è un'arma, la lesione è stata causata da un'arma da punta e taglio, pugnale, lancia e frecce. Dicevo che comunque l'iforo di ingresso è dal basso verso l'altro, quindi si fa fatica a pensare a una lancia, si fa fatica a pensare a una freccia che entri dal basso, insomma di solito sono diverse le dinamiche balistiche di queste armi. Il pugnale si unendolo appunto al trauma del braccio, quindi la proposta, il meccanismo, il modello che ci hanno dato i poliziotti è quello di un'aggressione che questa persona ha subito alle spalle, quindi l'aggressore ha preso il braccio sinistro, l'ha torto, l'ha piegato e con il braccio destro a salire ha perforato torace, clavicola e poi ha lacerato anche i vasi sanguigni. Questo spiegherebbe tutto in un unico modello ed è quello che stiamo un po' portando avanti anche nell'esposizione. Altro passaggio importante su questa mummia, ma anche sull'altro, un altro progetto che abbiamo portato avanti come museo di antropologia riguardava le ricostruzioni facciali forense. Noi a Padova abbiamo avuto l'opportunità di lavorare con la ricostruzione di Sant'Antonio da Padova, con Francesco Petrarca, ma avevamo l'attack, quindi avevamo il cranio di questo soggetto in 3D e il modellista ha ricostruito le fattezze del soggetto, che inizialmente pensavamo fosse sacerdote, quindi l'abbiamo abbigliato e anche con il fatto della rasatura eccetera, pensato come un sacerdote, come l'iscrizione del sarcofago, però i dubbi, come vi dicevo, ci sono. Però insomma queste sono alcune fasi della ricostruzione della persona. E arrivo appunto all'ultima parte, spero di non avervi annoiato con questo trattato di anatomia patologica, è un cold case complicato ma affascinante e arriviamo appunto al quasi presente all'immediato, spero futuro, perché ho messo 2023 tra parentesi, facendo tutti gli scongiuri del caso, ecco insomma, perché non si sa mai. Allora, il nascerà a Padova, avete visto, penso vagamente, dalla grafica istituzionale delle presentazioni mie e di Alessandra che l'Università di Padova sta vivendo un anniversario importante, sono gli 800 anni della fondazione, ci sono varie operazioni all'interno di questo periodo e una delle ultime, un po' sforeremo gli 800 anni, è quella appunto del Museo della Natura dell'Uomo. nascerà un museo nel quale confluiranno quattro musei, museo di antropologia, mineralogia, geologia, paleontologia e zoologia. Ed è un museo in cui i temi partono dall'origine dell'universo, dalla formazione dell'universo, fino a culture, l'interesse etnografico del secolo scorso, metà 900. E all'interno di questo percorso ovviamente ci sarà una sala dedicata ai reperti egizi del museo, oltre al sarcofago e mummia abbiamo qualche altro resto umano e animale mummificato, sono una decina di oggetti. E ovviamente ci siamo posti molte domande, ci siamo fatti delle domande, come esporre questi resti? Non vado a fondo ma l'esposizione dei resti umani è un tema sempre caldo, da cui non c'è un giusto o uno sbagliato, ci sono varie sensibilità che vanno comunque tenute in considerazione. In questo caso, oltre ad esporre un resto umano, abbiamo un resto umano, una persona morta di morte violenta, quindi un'ulteriore delicatezza da tenere a mente. Va detto che l'antropologia sguazza in situazioni in cui ci sono problematiche e sensibilità varie, perché affronteremo la questione delle presunte razze umane, l'antropologia storicamente è stato il braccio scientifico che ha alimentato questa divisione dell'umanità in razze, oltre al fatto che abbiamo reperti etnografici che andremo a esporre e con tutte le tematiche di decolonizzazione o richieste di restituzione. Quindi dovremmo cercare un linguaggio che spiegasse il meglio possibile queste tematiche e ci difendessero in qualche modo. Quale linguaggio abbiamo pensato? Torno un attimo indietro, perché è il bello di una storia profonda, secondo me, di 800 anni, vedere che anche nel passato qualcosa avveniva. Queste parole le scrive Enrico Tedeschi, che fu il primo, a fine 800, che fu il primo direttore dell'Istituto e Museo di Antropologia e fa riferimento a un suo predecessore, Giovanni Canestrini, naturalista importantissimo, a colui che ha tradotto le opere di Darwin in italiano, e descrive appunto la nascita della prima collezione antropologica fatta nascere da Canestrini. Mettendoci del proprio, in tanta miseria di stato, è lui che compra oggetti, anche le antichità egizie. E cosa servivano questi reperti? Servivano alla produzione scientifica e alle necessità dell'insegnamento. Traduciamolo nel burocratese di adesso, prima e seconda missione dell'università. Ricerca e didattica. Quindi queste collezioni, già nell'Ottocento, l'ha detto benissimo anche Alessandra prima di me, nascevano con questi scopi. L'università, queste anime sono indissolubili. Quindi è ovvio che la terza missione, quella della disseminazione della conoscenza, è naturale per noi, e il linguaggio scientifico, speriamo, sia sufficientemente autorevole, perché nasce appunto da una tradizione lunga, per spiegare anche temi che potrebbero essere scomodi. Diciamoci, ci consola il fatto che questa mummia e altre situazioni in cui abbiamo parlato di temi comunque caldi, con mostre temporanee, hanno avuto, con le scelte di linguaggio che abbiamo fornito, un buon ritorno senza creare grandi dibattiti feroci, perché appunto purtroppo le derive sono rapide. Quindi ecco, insomma, il mio augurio è di rivedervi tutti nel 2023, non dico il mese, potrebbe essere un 2023, lungo 15 mesi anche, ma non lo sappiamo, a Padova, magari potrebbe anche essere in un futuro l'occasione di ospitare un convegno simile a questo, ci piacerebbe, parlavamo con Alessandra, ripensare, così anche, visto che qui a Crema avete, cogliendo l'operazione del rilancio di queste collezioni, delle collezioni sviste, avete organizzato queste giornate, ci piacerebbe anche noi cogliere queste occasioni per pensare a un altro momento come il vostro e nel caso fosse verremo a chiedere indicazioni precise, perché avete lavorato benissimo, quindi ancora grazie di tutto. Grazie. Grazie.